we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia già vedete le cose già vedete le cose sotto porca miseria mamma mia sono venute fuori in queste ultime ore delle novità davvero incredibili per quello che riguarda soprattutto il futuro di fortnite e l'evento oramai quasi confermato associato a godzilla sappiamo ragazzi che l'evento sarà a picco polare non sappiamo ancora tantissimi dettagli ma ci sono delle curiosità e dei file audio che vi farò vedere e sentire che possono davvero confermare questa teoria che sta cominciando a prendere piede su tutta la community del nostro fortnite nel video di oggi ragazzi infatti approfondiremo tutto quello che c'è da sapere fino ad adesso dell'evento ma vi mostrerò anche due nuove skin con tanto di skin per armi e veicoli davvero molto molto belle e ovviamente una bella valangata di leaks per dirvi tutto il dietro le quinte del nostro fortnite ma prima voglio ringraziare tutti coloro che supportano il canale ogni giorno scioppazzando con il codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per aiutare il channel mi raccomando non dimenticate di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima la ve la devo fare raga la domandina che ieri mi avete risposto in tantissimi sul sull'outfit che preferite sulla combo ma la domanda di oggi è davvero un bel punto dolente dell'ultima patch di fortnite ragazzi hanno inserito il fucile di precisione semi automatico e tu preferiresti che ci fosse stato il semi automatico o il bolt action quello classico non quello silenziato io ragazzi avrei preferito di brutto di brutto il bolt action mi manca il bolt normale raga aveva una velocità di ricarica e una precisione davvero incredibili ditemi che cosa avreste preferito voi qua sotto nei commenti ma quindi cioncio alle bande e vado alle ciance le andiamo subito a vedere ragazzi ecco qua intanto schermata di caricamento della settimana numero 4 quindi tra pochi giorni oggi è martedì dopo domani ragazzi uscirà la le sfide per la settimana che come vedete ci mostrerà le due nuove skin una non la vedete perché è coperta dal mio logo adesso ve le faccio vedere più nel dettaglio schermata ragazzi che riprende un paesaggio molto interessante sembrerebbe palmetto paradisiaco là in fondo con tutto il deserto ovviamente disegnato come un deserto quindi non come lo vediamo noi in game e una delle novità che sono arrivate con la patch quindi i droni con il loot extra le skin ragazzi sono queste ecco qua la versione maschile come vedete ragazzi entrambe hanno uno stile personalizzato quindi si può decidere di giocarle con la maschera o senza maschera davvero sembrano proprio dei guerrieri e i predoni del deserto secondo me ragazzi lo stile è proprio azzeccato questo è lui questa invece è lei meravigliosa davvero super bella come è stata fatta come è stata disegnata ma come vi anticipavo queste skin ragazzi hanno anche una particolarità nel set di cui non conosciamo ancora né piccone né deltaplano abbiamo solo l'informazione relativa alla skin alla copertura per armi e veicoli che è davvero molto molto bella la possiamo anche vedere su uno scar guardate che meraviglia davvero tanta roba una copertura che vale comunque la pena di avere se ne avete la possibilità non penso che abbia una rarità diversa dalla non comune quindi ragazzi prestissimo disponibili anche queste skin ma andiamo a parlare dell'argomento quello più interesse è sempre questi codici e devo farveli vedere hanno aggiunto per chi ha visto i miei video precedenti ragazzi questa è un'immagine che vi avevo già proposto ma non aggiornata sono nuovissime stringhe di codice inserite da poche ore relative all'evento cattus l'evento si chiama in inglese cattus e come sapete ragazzi ci sono tantissime voci che hanno un po fatto addrizzare le orecchie ai grandi leakers mondiali ad esempio una voce c'è scritto in una voce high quindi l'occhio un occhio che sembra arrivare chissà da dove ma c'è un'altra voce che si dice che c'è scritto che cita ice head frozen head una cosa del genere adesso è piccolo anche per me non me ne ricordo a memoria quindi una testa di ghiaccio e tra queste voci c'è anche quella che fa capire che si tratta appunto dell'evento a picco polare la posizione dove avverrà vi avevo già mostrato ma voglio farvi rivedere quello di cui vi ho appena parlato questo è l'occhio citato nelle stringhe di codice ed è davvero molto particolare che venga proprio inserito un occhio così gigante che diamine vuol dire perché ragazzi giustamente la domanda che ci facciamo è è collegato tutto a godzilla perché ci sono degli elementi davvero super interessanti proprio in game che forse sono un po sfuggiti ad alcuni di voi e che voglio farvi vedere e che confermerebbero questa teoria innanzitutto questa ragazzi è un'immagine relativa alla stringa come si chiama head frozen quindi testa ghiacciata il che non si capisce assolutamente nulla a parte queste questi scarabocchi che io non sono riuscito ad interpretare ma potrebbero davvero significare che ci sia un mostro un qualcosa bloccato nel ghiaccio ma andando avanti ecco qua il primo elemento ragazzi nel nel pass battaglia di questa season a livello 50 viene proposto lo standardo di quello che potrebbe davvero sembrare un godzilla stilizzato una specie di animale preistorico enorme abort chiamate un po come cavolo vi pare ragazzi ma ci assomiglia davvero tanto e un'altra curiosità arriva proprio dallo skateboard ragazzi guardate attentamente il disegno dipinto nella parte dello skateboard come vedete sembra davvero la skin rex ma guardate un po più in basso ci sono dei cari armati che gli stanno sparando e ancora più in basso una città in fiamme ragazzi è uno scenario ovviamente associabile di nuovo a godzilla quindi una bestia che distrugge porta il panico e che cerca di essere fermata dall'esercito non avrebbe senso dai che avrebbe che avessero inserito questi dettagli così particolari nella parte sotto di uno skateboard davvero tanta tanta roba e guardate invece qua siamo nuovamente in una stringa di codice dove un leakers dice che è presente questa riga ice castle quindi il castello di picco polare egg 01 si torna a parlare di uova ragazzi io non voglio dire ma paradossalmente Godzilla è un rettile i rettili vengono dalle uova dico solo questo voglio comunque anche rimostrarvi eh sì ragazzi l'impronta presente dalla season 4 nella mappa di fortnite ed è davvero l'impronta che tutti ci chiedevamo un dinosauro una bestia addirittura si parlò della modalità leviatano gigante tanta roba potrebbe anche questa essere associabile a godzilla ma voglio farvi vedere ragazzi innanzitutto voglio farvi sentire in realtà dei file che sono incredibili fatemi alzare il volume perché sono davvero super super pazzeschi guardate un po lasciate perdere quello che vedete questi sono file audio presenti in game alzo il volume e sentite adesso una parte del traverti Godzilla avete sentito ragazzi praticamente è lo stesso identico suono quello che vi ho fatto sentire all'inizio molto più pulito rispetto al suono che si sente nel pezzettino di trailer del film Godzilla quindi ragazzi è davvero un nuovo elemento che potrebbe confermare l'arrivo di Godzilla in game io ragazzi quello che ho scoperto ve l'ho detto spero che vi siate un pochettino divertiti con questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 13 in live ciao ciao